Invisible di YouTube su Radio Monte Carlo dove c'è la musica migliore e dove voglio mandare un gigantesco in bocca al lupo a Walter e a tutti gli altri ragazzi che mi hanno segnalato questo tentativo di eh record si tratta di una diretta radiofonica che poi è un campionato europeo in realtà anzi no qualcosa di più è un campionato mondiale c'è una radio che è una radio universitaria che rappresenterà l'Italia proprio nel tentativo di ottenere questo record di importante questa lunghissima diretta la radio è unicaradio.it quindi io dal 6 al 9 maggio li seguirò con attenzione ma non sento nessun desiderio di imitarli perché mi ricordo nelle prime radio in cui lavoravo all'inizio della carriera ogni tanto i miei colleghi tentavano di battere questo record della diretta più lunga e io vedevo questi ragazzi rovinati degli stracci letteralmente al microfono che tentavano appunto di portare a casa il record perché è una grossissima pubblicità per una radio tant'è che questo viene fatto di solito dalle radio piccole quindi speriamo che questi ragazzi di Cagliari ce la facciano davvero in bocca al lupo per me già alla quarta ora io comincio ad oscillare figuratevi dopo 20 ore come sarei già sono stordita così poi un bacione lo voglio mandare a Oscar e a tutte le persone che ieri sono state qui ospite a Radio Monte Carlo a fare gli auguri di compleanno al nostro Marco Porticelli a cui mandiamo un bacione e grazie per i biscotti ringrazio tua moglie sono veramente squisiti